Buongiorno e ben ritrovati a tutti sono le sette e mezzo del mattino siamo in diretta occhio ai giornali la rassegna stampa di fano tv sul canale 17 pronti come sempre per dare un'occhiata ai giornali tra poco il resto del carino Corriere Adriatico e il messaggero il tempo prima no il santo il santo oggi come oggi è Santa Caterina da Siena Santa Caterina da Siena grande santa il sole è sorto alle 6.03 tramonterà alle 20.08 il cielo il cielo si apre dopo una giornata grigia piena di nuvole e anche di pioggia quella di ieri oggi il cielo si apre anche se nell'entroterra ci sarà ancora qualche possibilità di pioggia 12 gradi la temperatura alle 7.30 del mattino vediamo invece le previsioni per oggi velocemente allora precipitazioni deboli piovaschi residui al mattino nei settori interni della regione dalla serata rovesci sparsi più probabili sempre nell'entroterra e nei settori centrali della regione le temperature sono stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi il mare sarà poco mosso andiamo a vedere la giornata di domani giovedì 30 aprile cielo nuvoloso nelle prime ore della giornata con progressiva diminuzione della nuvolosità rovesci residui nelle prime ore della giornata più probabili nei settori centro settentrionali della regione temperature stazionarie o in lieve aumento eventi sono di brezza tesa poi venerdì primo maggio giorno di festa avremo un cielo poco nuvoloso per il momento è confermato il sole sulla costa un po più nuvoloso verso l'entroterra non ci dovrebbero essere precipitazioni le temperature sono in aumento eventi sud occidentali la tendenza per il fine settimana dovrebbe comunque essere dovrebbe tendere al meglio quindi dovrebbe esserci l'anticiclone che dovrebbe garantire appunto cielo sereno allora andiamo a leggere i giornali cominciamo dal messaggero la pagina di pesero la proposta del prefetto sentinelle civili inaccettabili frega che il segretario del sindacato di polizia silp cgl contrario all'idea lanciata dal prefetto sì alla sicurezza partecipata no al controllo sociale organizzato perché così si rischia il far west a centro pagina coltellino in mano rapina una farmacia all'ora di chiusura colpo alle 20 alla comunale di via solferino a pesero via san martino bottino 200 euro le pagine interne la politica milioni ai comuni milioni di euro ai comuni e fondi rurali in aula anche senza il pd spacca infatti firma l'attesa delibera sul patto verticale per gli enti quindi per i comuni e le province l'atto con i democrat dimessi assente viventi ma assente solo perché era imbottigliato nel traffico sentinelle civili torniamo a pesero sentinelle civili l'idea è inaccettabile è come dire pensateci voi perché sul problema sicurezza lo stato latita il prossimo passo sarà l'uso libero delle armi dunque non piace non piace l'idea del prefetto non ronde ma sinergie virtuose anche a fano savelli presidente di noi città ospica al comitato di quartiere il ripristino delle circoscrizioni mentre il sindacato di polizia si dichiara stupito e perplesso dell'iniziativa del profe del prefetto luigi pizzi poi da dalla pagina interna del messaggero frane sulla panoramica il giro d'italia è a rischio quello che passa anche a pesero quasi sicura la deviazione sul lungomare ma a 20 giorni dal passaggio dei ciclisti l'urgenza sono le frane lungo la panoramica san bartolo la provincia intervenga il prima possibile chiedono dal consiglio del parco infatti il prossimo 19 maggio il giro d'italia toccherà per l'ottava volta consecutiva la nostra provincia nella tappa Civitanova Forlì la pagina di fano del messaggero si parla di comune del comune del distacco di Marotta che ha portato più tagli al bilancio l'assessorato si ritrova con 350 mila euro in meno c'è adesso un accordo in discussione ieri un incontro con i sindacati ma si apre anche uno spiraglio con possibilità di assunzioni nel 2016 l'amministrazione ha detto il sindaco di Fano pensa di compensare la perdita trasferendo a Mondolfo maggiore personale poi due notizie in breve da Lourdes nelle parrocchie la reliquia di Bernardette ieri è iniziato il tour poi centinaia al Politeama per Mur e la Guzzanti adesso andiamo sul Corriere Adriatico il Corriere Adriatico l'economia l'impresa pesarese non aggancia ancora la ripresa nel primo trimestre del 2015 tra aziende nate e società sciolte registrato un saldo negativo di 251 chiusure più sotto i profughi saranno parte attiva della nostra solidale comunità Tagliolini sindaco di Peglio dice la cittadina che ha accolto 29 migranti gli operai della SIFE invece sospendono lo sciopero oggi riparte la produzione anche se restano i dubbi sequestrato in casa un chilo di marijuana la canapa coltivata ad Urbino con premura da due studenti entrambi arrestati droga destinata agli studenti universitari la pagina di Fano i fanghi del porto sono smaltibili in mare l'autorità portuale anconetana dà il via libera allo sversamento del materiale campionato dall'ARPAM la comunicazione dell'assessore Paola Giorgi al consigliere regionale Mirko Carloni il sindaco Seri parla di propaganda elettorale però a parte questo a parte la propaganda questo è il frutto di un intenso lavoro dice Seri di equip dell'amministrazione intanto si pensa ad un regaggio d'emergenza sopra avviata la procedura per l'individuazione dell'advisor per quanto riguarda Aset Holding e poi sotto bando per la gestione del campo sportivo di Centinarola la gara prevede un accordo triennale con la possibilità di essere prorogato fino a otto anni scadenza del bando il 12 di maggio un'altra rivoluzione a Fano dei parcheggi Marcheggiani il vice sindaco annuncia nuovi sopralluoghi e conferma l'eliminazione dell'impianto del distributore dell'Agip dove una volta c'erano lì vicino i cappanoni dei cari del carnevale un grande parco polivalente nell'ex pista dei go-card una delle proposte del presidente degli alberghi consorziati presenta l'incontro con il PD più verde, viabilità migliore e sinergie con l'entroterra ancora dalle pagine del Corriere da Orciano, illuminazione pubblica Orciano entra nell'era dei LED deliberata la sostituzione di tutti i punti luce del centro storico dalla pagina di Senigallia del Corriere si stacca un listello di legno dal tetto brivido all'Ipsia, chiusa la palestra impianto non utilizzabile fino a quando non verranno effettuati i lavori chiudiamo con il resto del Carlino la pagina di Fano Cantiani e Marcucci finalmente è arrivata la telefonata per fortuna stiamo bene fanesi nel Nepal terremotato il sollievo dei genitori dicono, dice Giorgio Marcucci dovrebbero tornare il 10 di maggio prossimo ma siccome leggiamo che tra i soccorsi che arrivano e i turisti che lasciano il paese l'aeroporto di Kathmandu è ingolfato sinceramente non sappiamo dire il giorno che rientreranno a Fano poi sempre dalla pagina di Fano del Carlino Alba di Fuoco in autostrada distrutto un camion paura ieri mattina intorno alle 6 lungo la corsia sud dell'autostrada 14 nel tratto tra Fano e Marotta un auto articolato che trasportava diverse tipologie di merce tra cui anche genere alimentare e carbonella è improvvisamente andato a fuoco Carloni e le analisi dell'ARPA i fanghi del porto possono essere scaricati nel mare il consigliere regionale dice questa è la soluzione migliore mentre si parla sulla pagina di Fano anche dei dipendenti verso il licenziamento all'Ocean Ocean in generale non solo quelli di Fano ce ne sono tanti purtroppo in tutta Italia che stanno rischiando il posto di lavoro i sindacati intanto annunciano uno sciopero per il 9 di maggio all'ipermercato di Fano in 16 sono nell'anticamera del licenziamento 3 alle casse 4 al settore bibite 3 al banco dei freschi 2 al bazar 2 al reparto media e 2 al ricevimento il 9 maggio sciopero generale in tutti i 49 centri commerciali Oshanf hanno compreso visto che complessivamente rischiano di essere mandate a casa 1426 persone su 11.422 tagli il sindaco alza la voce se ririchiama gli assessori dalla regione meno 1.700.000 euro urla in consiglio durante la discussione sul bilancio stiamo facendo dice il sindaco miracoli per poter salvare il sociale senza aumentare le tasse e poi da pergola i carabinieri vanno a casa per arrestarlo lui invia un fax con gli orari di ricevimento una singolare mossa di un agricoltore di 39 anni accusato di furto la risposta prima al telefono ha chiesto che tornassero i carabinieri che tornassero più tardi poi ha deciso lui sostanzialmente il programma poi a caccia di lucciola una villetta a luci rosse a casa a Badioli decine di clienti e tre brasiliane pronte sequestrata dai carabinieri nei guai una delle donne e il sublocatario e chiudiamo con la pagina 9 di Pesaro Margò torna in città torna a Pesaro dopo l'isola dice lei sono pedinata dai paparazzi toccate fuga per vedere il padre Edoardo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito noi ci vediamo questa sera alle 20 e 30 con il telegiornale Occhio alla Notizia e naturalmente vi ricordo che c'è anche il nostro sito internet dove potrete rivedere tutte tutte le tutte le cose che noi produciamo quindi video in particolare on demand in qualsiasi momento voi lo vogliate quindi appuntamento su occhialanotizia.it grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie per averci seguito